Dopo la notizia trasmessa attraverso l'intervista all'avvocato Tiziano Chirico qualche giorno fa sulla nostra emittente televisiva riguardo l'installazione di sanificatori d'aria e delle superfici nell'istituto comprensivo Agropoli San Marco, l'ente comunale segue l'esempio dell'istituto e fa sapere che presto saranno installati dispositivi anche nel primo circolo didattico. È bene però precisare che i dispositivi installati nei plessi dell'istituto comprensivo Agropoli San Marco sono stati acquistati in parte grazie ai fondi scolastici erogati dal governo per l'emergenza covid e in parte con il contributo di attività commerciali ed imprenditori del posto e non con contributi comunali. Dopo questa notizia pubblicata dalla nostra relazione sui social diverse famiglie hanno sollecitato il primo cittadino Adamo Coppola a seguire l'esempio dell'istituto Agropoli San Marco infatti è di ieri la notizia che l'ente comunale provvederà a installare i sanificatori. L'amministrazione comunale dunque guidata dal sindaco Adamo Coppola ha deciso di dare il proprio contributo per l'acquisto di apparecchiature in grado di aspirare l'aria, disattivare virus e batteri grazie ai raggi ultravioletti e rimetterla in circolo purificata. La richiesta di installare simili sistemi all'interno dei plessi scolastici era arrivata nei giorni scorsi da parte di alcuni genitori degli scolari che frequentano il primo circolo didattico, fa sapere l'ente, il sindaco Coppola si è immediatamente confrontato con la dirigente scolastica che ha confermato la volontà di acquistare tali apparecchiature. Nonostante l'utilizzo dei sanificatori d'aria non sia stato reso obbligatorio dai protocolli ministeriali come amministrazione comunale abbiamo scelto di fare la nostra parte affiancando le scuole, sottolinea il sindaco Adamo Coppola. Con il prossimo bilancio garantiremo non solo al primo ma anche al secondo circolo un contributo per l'installazione di questi sistemi di purificazione dell'aria nei pressi scolastici di Agropoli. L'introduzione in classe dei sanificatori permetterà di accertare ulteriormente la sicurezza dei nostri alunni, anche una volta terminata l'emergenza sanitaria, conclude il sindaco Coppola.